La grande difficoltà di questo Sanremo, io pensavo di viverlo in modo più tranquillo, avendolo già fatto, in realtà è sempre stato come se fosse la prima volta, anzi ero ancora più teso perché non riuscivo a gestire questo carico emotivo che mi prigionavo dentro cantando questo pezzo. Tutto nasce da questa storia di un genitore che ha perso due figli, sfortunatamente, che tra l'altro erano miei fan. Questa cosa mi ha mandato al tappeto, cioè mi ha veramente sconvolto. Da quella storia sono aggiunte veramente decine, se non centinaia di storie perché ho fatto sette mesi a parlare con tantissime persone, è una canzone che ci ho messo veramente dei mesi per scriverla perché le storie continuavano a sommarsi e è stato complesso gestire tutto quanto. Questa cosa mi ha veramente cambiato la vita e è stato l'unico motivo per cui ho pensato di tornare a Sanremo stesso, cioè non pensavo minimamente io di tornare. questo è stato la sola cosa che mi ha spinto a dire devo tornare per raccontare tutte queste storie.